Dobbiamo scoprire cos'è successo alla squadra incaricata di sistemare il nodo sheet primario. Il rifugio federale dovrebbe essere sotto di te. Trova un modo per entrare ma fa molta attenzione. Grazie. Sì, è vero. resti umani rilevati identificazione agenti della divisione impossibile che i raietti abbiano fatto fuori un'intera squadra in combattimento reale impossibile computer online rilevato ottimo puoi usare il computer per sincronizzare l'aisac con le loro comunicazioni forse riusciremo a contattare i nostri sempre che siano in grado di rispondere connessione stabilita e mi sentite parla mani ortega sono con la divisione grazie al cielo sono maia la squadra non c'è più sono sola non siamo riusciti a riattivare il nodo ho recuperato gli strumenti per ricollegare la casa bianca alla rete nazionale ma poi sono arrivati quei bastardi e mi hanno impedito di rientrare tirate mi fuori a un agente serve aiuto grave trauma rilevato a a a Grazie. 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 Grazie.